Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, 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 oggi volevo parlarvi un po' del discorso tempo da passare sul gioco. Immagino molti di voi avranno già visto il video di Elades in cui praticamente mostrava tutte le varie attività necessarie per completare una giornata di gioco su Ride, facendo il minimo indispensabile e ci impiegava grosso modo 4 ore. Un video molto molto interessante, che in gran parte condivido, che voleva essere un po' un segnale alla Plarium per dire, ragazzi, ok, voi avete inserito un sacco di fasi nuove, alcune molto divertenti, altre magari meno, però resta il fatto che più aggiungete contenuti e più tempo ci vuole per giocare, insomma. Ora, Ride non è un vero e proprio casual gaming perché richiede pianificazione, richiede un po' di strategia, richiede tutta una serie di cose, non tipiche del classico gioco che si fa seduti sul gabinetto, insomma. Comunque, è pur sempre un gioco per smartphone e non può richiedere tantissimo tempo tutto insieme durante la giornata. E quindi, come si fa? Io personalmente non penso che alla Plarium importi più di tanto di andare a ridurre i tempi di gioco, perché una semplice e banale strategia di mercato dice che più la gente passerà all'interno del tuo gioco e più è probabile che spenderà qualche soldo. E quindi, secondo me, lamentarsi del problema è basta, lascia il tempo che trova. Ma se vedete i miei video, da un po' sapete che io mi batto per la strategia su tutti i campi all'interno di Ride, non soltanto nel modo in cui si vestono i campioni, nel modo in cui si scegliono i team e quant'altro, ma anche nel modo in cui si amministra proprio tutto il proprio account. E penso che il fattore tempo faccia parte della programmazione. E quindi, come si può fare per ottimizzare i tempi, proprio per far sì che non diventi un lavoro giocare a Ride, ma un vero e proprio divertimento? Allora, intanto può essere una cosa molto valida, è quello che faccio io, anche diluire le varie attività durante la giornata. Quali sono le varie attività che vi chiede il gioco? Partecipare al boss del clan, partecipare all'arena, partecipare all'arena squadre, giocare contro le rocaforti, giocare in campagna, sfruttare le risorse che vi vengono date gratuitamente, quindi banalmente l'energia e così via, completare le missioni giornaliere, completare le missioni avanzate, c'è un bel po' di carne al fuoco, ecco. Cose che sicuramente richiedono del tempo, ma che possono essere ottimizzate per essere fatte in un tempo decisamente più esiguo. Soprattutto se non le affrontate tutte assieme, ma le diluite nel corso della giornata, quindi magari ogni tanto vi fate un po' di arena, ogni tanto vi fate una partita contro il vostro clan, ogni tanto lanciate un po' di run da una determinata roccaforte per fare le missioni giornaliere, ma anche semplicemente per farmare pezzi, perché vi servono se volete costruire i vostri campioni, e quindi il vostro obiettivo dovrebbe essere far lavorare più il gioco che voi, cercare di andare a ottimizzare i team in modo che lavorino sempre e comunque in automatico. Ora, mi sembra di dire una banalità, però so che per molti non è così. Per molti dover intervenire nei team, magari soprattutto quello del vostro clan, dover smanacciare per tanti turni prima che il team riesca a lavorare in automatico, è una cosa abbastanza comune, e secondo me dovrebbe far parte della vostra pianificazione. Quindi non solo elaborare un team che vi permetta di fare molti danni, ma anche un team che sia molto molto semplice, immediato, che nel giro di un paio di turni del boss possa partire in automatico. E ce ne sono un sacco, la maggior parte dei team inammazzabili non richiedono tutto questo lavoro in manuale, ma alcuni sì. E nel momento in cui io mi sono trovato a scegliere quale team realizzare, perché avevo più possibilità, ho automaticamente scartato tutti quelli che richiedevano una grossa componente manuale per dedicarmi a soluzioni che invece potevano funzionare in automatico fin da subito. Il team che ho utilizzato attualmente e che vedrete tra un po' di tempo, già dopo un turno del vostro clan va tranquillamente in automatico. E quindi capite che anche se la partita dura 20 minuti non è importante, perché io ci ho impiegato di fatto 10 secondi a farlo partire, poi vi basta buttare il telefono in un angolo e si arrange a lui a fare il lavoro, semplicemente lasciare il gioco aperto sul PC, se giocate da PC. Lo stesso discorso si può fare tranquillamente anche per l'arena, potreste dire, vabbè, cosa mi costa, sono pochi secondi, alla fine è vero, però comunque richiede un po' di strategia, richiede che vi mettiate là, la maggior parte dei team in automatico non funzionano, ecco forse potrebbe essere una valida idea perdere quei 10 minuti di tempo e andare a investire sul team che invece in automatico funziona alla grande. è tutto tempo risparmiato, insomma, cioè nel senso potete fare quello che vi pare, nel frattempo, anche se il team ci impiega 30 secondi, chi se ne importa, perché tanto siete sicuri che vincerete anche in automatico, perché il team va oltre quella che normalmente è la stupidità dell'intelligenza artificiale, che richiede che voi andiate in manuale. Quindi anche questa è una cosa assolutamente ottima, avere un Blender Team, avere un team comunque che funziona, non è che il Blender Team è l'unico che funziona in automatico, ce ne sono un sacco, adesso anche Madame Serris è stata fixata alla grande, quindi per esempio si può utilizzare anche lei, andiamo per esempio a schiantare qualcun altro con un team, tommo anche questo qua per esempio, con un team normale, se non è pieno di scudi, speriamo di no, si riesce senza troppi problemi ad andare in automatico, anche utilizzando Madame Serris, ecco proviamo a vedere, ovviamente il discorso è sempre se si parte prima, sì, ok, in questo caso in genere Madame Serris va con l'A3 proprio senza nessun problema e questo vi permette di giocare in automatico senza grossi patemi d'animo, e anche qui è il solito discorso, che ci impiegate 9 secondi, 10 secondi, 18 secondi, quello che è, l'importante è che il gioco si arrangi fondamentalmente, e questo vi fa risparmiare davvero davvero tanto tempo, in meno di un minuto abbiamo fatto tre partite, nel frattempo abbiamo anche chiacchierato sopra, lo stesso discorso potrebbe valere anche per l'arena squadre, nel momento però in cui utilizzate un po' la testa, ora io adesso in questo momento sto giocando in oro 4, quindi in quella che dovrebbe essere la categoria un po' più competitiva, eppure per quasi tutta la settimana, almeno fino a venerdì, se voi state nella zona bassa del tier in cui siete, più verso la retrocessione, troverete ogni giorno questi team qui, quindi composti appunto da tre campioni singoli, di gente appunto che come voi, se tenete anche voi un team basso, qualcuno vi sconfiggerà e rimarrete sempre nella zona rossa, gente appunto che come voi fa lo stesso ragionamento, ci si aiuta tutti assieme per fare punti, ma soprattutto per giocare velocemente, e vedete che sono tre battaglie che si fanno in un attimo, contro un campione solo, siete sicuri di vincere al 100%, salvo mostri assurdi insomma, e questa è una strategia che può durare almeno fino a giovedì, anche venerdì, anche sabato a volte, soprattutto nei tier un po' più bassi, secondo me c'è addirittura gente che il team di difesa non lo cambia mai, quindi proprio tutta la settimana rischiate di trovare team molto molto facili da far fuori, quindi vedete, un minuto, perché comunque il mio team è lento, e abbiamo fatto fuori, con campioni un po' più performanti di me, nel fare le cose rapidamente, sì, ci si mette ancora meno 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 tempo, vi basta insomma fare un paio di refresh così, dove trovate 4-5 team, avete fatto le missioni del giorno, io sono arrivato in oro 4 di arena squadre, combattendo solo ed esclusivamente le 5 battaglie giornaliere, cercando di vincerle, per carità, assolutamente sì, però senza forzare la mano, senza star lì a scervellarmi, perché è una fase di gioco utile, sicuramente, perché dà dei premi, permette di mettere le mani su campioni buoni, come la Drekstar, per esempio, vi dà la possibilità di avere un avatar simpatico, se lo volete, come ho comprato io, ecco, insomma, vi dà la possibilità di fare cose, in più, vale la pena investirci almeno con le 5 multibattaglie, anche perché le stesse missioni avanzate, meritano di essere completate ogni giorno, quindi tanto vale sfruttare questo sistema qui, vi tenete un campione per turno, un campione appunto per squadra, vi fate battere, anche voi di conseguenza troverete gente che usa questa stessa strategia, voi in 5 minuti vi siete liberati dell'arena squadra, che è una delle cose più noiose, più fastidiose di tutto il gioco attualmente, del motivo per cui ad uno sbarbatello come me è bastato combattere il minimo indispensabile per arrivare nella categoria massima, quindi questo secondo me potrebbe essere un buon consiglio per superare a mani basse, una delle fasi attualmente più frustranti del gioco, sperando che la Plarium poi risolva il problema. Il gioco poi ci chiede anche di farmare un po' di campagna, sono 7 partite contro la campagna qualsiasi, sono 3 partite contro un boss della campagna, comunque dovete andare in campagna. E qui il trucchetto è sempre lo stesso, il farmer, ne ho parlato nel video dedicato al pollame, ma il farmer vi fa salvare un sacco di tempo, perché la differenza tra fare le 7 multibattaglie in un minuto, un minuto e mezzo, semplicemente perché dovete aspettare 5 secondi tra una battaglia e quell'altra, e farla in un bel po' di tempo, perché se anche voi vi portate per esempio uno starter come Kyle, come Galek, quello che volete che ci impiega 20 secondi, 20, 25, 30 secondi, diventa una fase in cui è un po' complicato, insomma è un po' complicato, nel senso farla in breve tempo. Se invece utilizzate il classico farmer da 6-7 secondi, quello che è, è il tempo di una chiacchierata, esatto, è il tempo di due battute fra amici, ed è fatta, insomma. Ne vale comunque la pena, perché vi permette di fare un po' di soldi, vi permette di tirare sul pollame, quindi è importante anche avere sempre un minimo di pollacci da a disposizione, pronti per essere tirati su di livello, che siano pronti appunto per la missione giornaliere, perché è vero che sono 7 battaglie, non è tanto, ma in 20 battaglie, avendo a disposizione per due dell'esperienza, si tira su un campione 3 stelle da livello 1 al livello 30, quindi pronto per essere alzato di livello. E quindi vuol dire che, semplicemente soddisfacendo i requisiti di gioco, nel giro di due giorni, voi avete il vostro campione a livello 30, pronto 2-3 giorni, quello che è, insomma, il vostro campione pronto per essere poi alzato di grado e diventare un pollo croccante. Addirittura, avendo un team, o meglio, un team, un farmer appunto per la campagna rapido, i livelli, quando appunto il gioco vi chiede di fare un boss della campagna, potete addirittura farli in manuale, nel senso, manuale cliccando voi il refresh, perché tanto in 10 secondi casca, soprattutto il boss finale della campagna brutale non è così impegnativo, un campione forte è in grado di liquidarlo, non dico con un colpo soltanto, ma quasi, al massimo con due, vedete, due colpi è andato giù, e in 10-11 secondi ve la cavate. Questo potete farlo addirittura cliccando voi fisicamente le play, perché state veramente pochissimo tempo a farne tre, e salvarvi le multibattaglie, magari per utilizzare le vostre energie altrove, per esempio nelle roccaforti. Il gioco vi dà un bel po', un bel po', insomma, abbastanza energia gratis, perché la ottenete appunto completando tre, cinque battaglie appunto dell'arena classica, oppure completando tutte le missioni avanzate, poi potete ottenere altri 50 punti di energia sempre legati all'arena, potete prendere appunto l'energia che vi viene data qui, quindi un po' di energia a disposizione il gioco ve la dà, ve ne dà un po', mi pare che sui 5-600 di energia si arriva, e quindi potrebbe essere molto molto utile poi anche lavorare, prefiggersi come obiettivo, migliorare i tempi nelle roccaforti, perché il gioco comunque vi chiede di combattere tre volte, o meglio, di vincere tre manufatti o accessorio, quello che è combattendo nelle roccaforti, e quindi è chiaro che avere un team performante che vi permette di fare questa cosa molto molto velocemente, vi salva un sacco di tempo, per esempio, anche qui, mettiamo direttamente tre, togliamo via le 5 stelle così il gioco ci raccoglie tutto quanto, e sfruttando semplicemente le multibattaglie che ci vengono date nel giro di pochissimo tempo avremo anche soddisfatto questo requisito, ma perché pochissimo? Semplicemente perché uno dei tanti processi produttivi all'interno dell'account è stato generare un team in grado di liquidare, per esempio, in questo caso, il ragno, in secondi e quindi nel giro di pochissimo tempo vedete che è caduto 23 secondi e il boss se n'è andato. Non è semplice, non dico che fate così, non voglio dire fate così e avete risolto il problema perché non è questo il mio messaggio, il mio messaggio è impegnatevi, lavorate perché questo sia il vostro obiettivo per riuscire a fare il ragno 20 in meno di un minuto perché in quel momento non solo siete competitivi sicuramente quando si partecipa ai tornei ma anche e soprattutto siete molto 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 più snelli nel momento in cui bisogna completare anche solo banalmente le missioni giornaliere. Vedete, giusto il tempo di spenderci due chiacchiere sopra e abbiamo fatto tre partite, abbiamo ottenuto dei buoni pezzi che frutteranno un bel po' di grana nel caso in cui facciano schifo o altrimenti potrebbero cambiarvi magari la vita. Quindi ci sta che il gioco vi incoraggi a spendere del tempo in queste fasi ogni giorno, ci sta alla stragrande. Dipende da voi appunto sfruttare queste occasioni che il gioco vi dà dandovi anche delle piccole ricompense perché sia un'occasione per potenziare, per migliorare, per incrementare appunto il vostro account invece di essere una perdita di tempo perché il gioco ve lo richiede. Quindi alla fine della fiera vedete abbiamo fatto un bel po' di cose, abbiamo completato la campagna, abbiamo completato la missione che richiede di combattere nelle roccaforti, abbiamo combattuto un po' in arena, abbiamo combattuto un po' in arena squadra e non ci abbiamo impiegato tanto tempo perché alla fine al netto di tutti i miei sproloqui siamo a 17 minuti di video, per carità non voglio dire che è finito tutto qui, c'è ancora un sacco di cose da fare, però le cose spicce non richiedono poi tantissimo tempo se voi avete ottimizzato i vostri team. Quindi, volete farvi cavaliere pirico perché il vostro obiettivo è farmare pezzi di cavaliere pirico? sfruttate le 30 multibattaglie lì le sbattete tutte quante lì cercate di lavorare ad un team che vi permette di completarlo in un minuto e mezzo due minuti quello che è meno se potete farlo con meno tempo meglio ancora vivete felici e contenti e dopo 20 minuti 30 minuti di gioco in cui avete fatto qualsiasi altra cosa volevate tornate lì e mietete il vostro raccolto questo vale per qualsiasi cosa vale appunto anche per i vostri clan per qualsiasi fase quindi fate lavorare il gioco io ormai raid lo vedo come una piccola azienda devo dire al di là del canale e tutto il resto lo vedo come una piccola azienda ho cercato di impostarlo così e questo mi ha permesso di raggiungere gli obiettivi molto rapidamente indipendentemente poi dal fattore soldi speso perché il fattore soldi non fa altro che aumentare il tempo che voi impiegate per giocare di fatto perché vi da più possibilità più energia più cose da fare e quindi ancora di più se ottimizzate se ottimizzate assolutamente le vostre risorse e i vostri team ottimizzerete anche il tempo che passate davanti a raid shadow legends detto questo raga il video finisce qui il video breve anche oggi è breve insomma comunque 20 minuti se ne sono andati come al solito vi invito a scrivere un commento qui sotto perché mi piace sapere il vostro parere anche su un argomento interessante se vogliamo un po' particolare come questo se invece volete farmi domande un po' più articolate che meritano un video per essere sviscerate vi invito a farle su ask quindi trovate il link in descrizione scrivete le vostre domande e poi riceverete una risposta come al solito vi invito anche ad iscrivervi al server discord per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità iscrivetevi al canale mi raccomando e accendete la campanella perché è risaputo che chi si iscrive al canale del Bradipo Furioso non ha più intolleranza al lattosio ve lo dico io potete mangiare tutto il latte che vi pare bere tutto il latte che vi pare e non vi viene più la cagarella merito di essere iscritti al canale del Bradipo Furioso quindi fatelo e ho detto tutto come al solito ma manca la frase finale manca la frase finale è la cosa più importante e quindi ragazzi mi raccomando siate furiosi ma rimanete bradipi grazie a tutti